Si aspetta la neve a Pescara, le previsioni annunciano delle precipitazioni nevose per le prossime ore. Assessore Teodoro, avete già pronto il COC, dunque pronti ad affrontare un'eventuale emergenza? Già a partire dal tardo pomeriggio sera inizia a nevicare a bassa quota, quindi noi saremo già pronti con tutti i nostri mezzi possibili e immaginabili, con gli uomini della protezione civile. Ecco, una raccomandazione che faccio ai cittadini pescaresi, possibilmente di evitare l'utilizzo del mezzo mentre nevica, perché noi saremo con i nostri grandi mezzi, camion, spargi sale, per proteggere da eventuali ghiacciate le strade e per renderle anche più sicure, altrimenti diventa un lastricato di ghiaccio. Un occhio di riguardo soprattutto per le zone collinari, i Colli Madonna e poi San Silvestro. Lo abbiamo fatto già da queste prime ore del mattino con i mezzi spargi sale per evitare appunto laddove a Colli Madonna e a Colli San Silvestro vi è stata una precipitazione molto leggera di nevischio, quindi per evitare che con le temperature basse delle prime ore del mattino ghiacciasse, già i mezzi di spargi sale hanno fatto, hanno assunto la loro funzione a pieno, facendo questo lavoro puntuale dove le macchine possono da questa mattina viaggiare tranquillamente senza alcun problema.